Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale in apertura ai titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno della puntata Festa della Donna, premiate in Consiglio regionale 8 storie al femminile Rigassificatore, ipotesi adriatico per il futuro offshore dopo tre anni a Piombino A Torrita di Siena tutto pronto per il 66esimo Palio dei Somari Imprenditrici, sportive, docenti, archeologhe, solo per citarne alcune 8 storie di donne premiate perché si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività Un riconoscimento speciale inoltre alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà rappresentate per l'occasione dal movimento Donna, Vita, Libertà Così l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha celebrato la Festa della Donna 2023 La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna, Vita, Libertà è un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti che poi abbiamo voluto premiare, otto donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi Festeggiando la donna oggi nel 2023 voglio ricordare due donne Una è Celina Seghi che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno perché è mancata, aveva vissuto un secolo intero e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile è nata in un paese di montagna all'inizio del 1900 e che è andata quando le sue coetanee passavano la vita nei boschi a raccogliere mirtilli o a andare a legna è andata a giro per il monto a vincere gare di sci quest'anno sarà il primo 8 marzo senza Celina Seghi L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architravo istituzionale a fare il Presidente del Consiglio sicuramente penso che indipendentemente dalle appartenenze politiche il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna da Giorgia Meloni sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia ma è stato bello anche sentire le esperienze di chi fa università di chi si occupa del mondo di impresa abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane la Toscana è grande quando sa parlare al mondo quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili per i diritti sociali dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno non solo l'8 marzo 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie che fanno dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione a fianco di questo ovviamente un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà e tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute Non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi fece la prima legge sulla parità salariale ancora oggi i governi intervengono su questo tema perché ancora questa parità salariale sappiamo non c'è Per dire alcuni titoli sui quali abbiamo la necessità che l'8 marzo non sia una data sul calendario ma sia un impegno profondo per tutte le donne perché sappiamo che una donna che può lavorare che può sviluppare la propria dimensione personale è una donna che conferisce alla propria famiglia alla società tutta un di più di ricchezza di contributo, di approccio positivo ai problemi e io credo che se le donne fossero ai posti di comando la nostra società sarebbe sicuramente migliore di quanto non sia oggi Presente all'iniziativa anche il nuovo difensore civico della Toscana Lucia Annibali Ritrovarsi e riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale e anche economica per il nostro paese e per noi tutti perché ci porta a riflettere su dove siamo ma anche su quello che possiamo fare e i racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti molto affascinanti e servono per tenere accesa questa speranza e per stimolare anche però la necessità di un impegno e di una crescita proprio della nostra società Per la Presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Basanieri l'8 marzo deve essere un momento di riflessione sulla condizione delle donne e dei loro diritti L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana in questo anno devo dire che è cambiato molto la Regione Toscana attraverso i suoi organi più importanti la Giunta e il Consiglio regionale ha fatto una serie di interventi e di iniziative e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi proprio per andare in questa direzione cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne Un riconoscimento speciale è stato assegnato alle donne iraniane rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà È molto bello festeggiare così l'8 marzo a fianco delle donne iraniane donne che stanno soffrendo e lottando insieme ai loro compagni contro un regime che le priva della libertà le priva della possibilità di pensare un futuro per se stesse e per i loro figli devo dire che questa presenza oggi ci ricorda quanto il nostro poter festeggiare l'8 marzo sia un privilegio quanto i nostri spazi di libertà quotidiana siano un privilegio un privilegio che è costato lotte e fatiche ma che oggi dobbiamo custodire e consegnare intatto anzi accresciuto alle nostre figlie e ai nostri figli I crimini del regime islamico sono infinite le violenze sono inaudite ogni giorno ci chiediamo cosa succederà di più abbiamo bisogno sicuramente di comunità internazionale abbiamo bisogno di sensibilizzare ma abbiamo bisogno veramente di fatti concreti in maniera che si possa indebolire il nostro regime e chiedere anche conto di quello che sta facendo perché avvelenamenti delle bambine soprattutto ma anche dei maschi avvelenati in questi giorni credo sia un fatto così grave che non si può nemmeno credere che si possa fare una violenza di questo tipo Tra le premiate Liliana Dell'Osso direttrice della clinica psichiatrica dell'Università di Pisa non è merito mio io mi devo riconoscere in merito di aver stabilito con me stessa quando sono diventata direttore che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano ecco questo impegno l'ho mantenuto perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto Sara Montemerani, medico del 118 ad Arezzo ha ricordato la sua esperienza in Turchia durante le operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal terremoto L'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto è un onore ricevere questo premio da parte della regione toscana che ha investito tanto nel progetto dell'Usare che penso e spero continui ad investire perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia dedico la premiazione a chi mi è stato accanto a chi mi è stato accanto da casa a chi mi è stato accanto là anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equip quindi io in realtà sono soltanto uno a delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia Francesca Abbiagini, docente all'Università di Baviera e prorettrice per gli affari internazionali e la diversità ha voluto rivolgere il suo messaggio alle ragazze Io ho studiato matematica ho voluto fin da piccina studiare matematica e fare ricerca e ho potuto farla grazie anche alla scuola normale di Pisa e ho intrapreso una carriera accademica internazionale e vi vorrei incoraggiare a studiare matematica a studiare le materie scientifiche a avere il sogno di fare una carriera accademica perché questo è possibile lo dimostra la mia esperienza e vi posso anche dire è pure conciliabile con la famiglia Riconoscimento anche per la presidente del movimento turismo del vino toscano Violante Gardini Cinelli Colombini Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi le donne ragionano per relazioni questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti io parlo del nostro ruolo quindi delle cantine italiane sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine ma sono in netta maggioranza nel marketing nella comunicazione dove arrivano all'80% nelle vendite dove anche se è piccolina la percentuale di maggioranza siamo al 51% In rappresentanza delle archeologhe degli scavi di San Casciano dei Bagni Claudia Petrini e Caterina Rocchi La nostra professione spesso diciamo non viene riconosciuta nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo e quindi oggi abbiamo l'occasione essendo qui di essere portavoci di tutta la nostra categoria Oggi siamo qua anche per ringraziare di questo riconoscimento e per chiedere che alle donne nel mondo dell'archeologia sia concessa una maggiore attenzione perché noi siamo una goccia in un mare di tante archeologhe perché siamo soprattutto donne che però spesso non vedono propriamente riconosciuti i loro lavori Anche la chef stellata Valeria Piccini ha voluto rivolgere il proprio messaggio alle giovani Mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti quasi sempre da uomini però uno che ci mette tutto il cuore tutta la passione la costanza lo studio tutto il suo sapere ce la può fare tranquillamente io e altre donne come Annine siamo l'esempio e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo faticoso ma bellissimo Spazio anche al mondo dello sport con la tennista Martina Trevisan la sportiva non era presente perché impegnata nel torneo di Indian Wells ha ritirato al suo posto il premio il manager Martina è molto contenta di questo premio perché lei rappresenta con grande onore il sesso femminile il tennis è uno sport molto competitivo per le donne è uno sport molto solitario è uno sport che porta a galla tutte le debolezze che porta a galla tutte le paure e quant'altro e quindi è un costante rimettersi in gioco ogni giorno e affrontare tutto quello che sono i propri limiti i propri fantasmi e poi gioire per quello che si è riuscito a fare premio consegnato anche all'imprenditrice Lucia Ghieri titolare dell'azienda MGM Motori Elettrici MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali e sono lì non per quaterosa o per favoritismi ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato Dopo tre anni di attività nel porto di Piombino la piattaforma offshore si sposterà sull'Adriatico a dichiararlo il presidente della regione toscana Eugenio Gianni a margine dell'ultima seduta del consiglio regionale rispondendo alle domande della stampa sul tema della nave rigassificatrice sulle nuove soluzioni a cui SNAM sta lavorando sta lavorando anche a soluzioni anzi si sta indirizzando su soluzioni che proprio per preservare quello che è tutto il carico di dialettica che si è accumulato per quello che riguarda il rigassificatore del porto di Piombino sta pensando a soluzioni che dopo i tre anni di attività nel porto di Piombino portino la piattaforma offshore sull'Adriatico tutto pronto a Torrita di Siena per il 66esimo Palio dei Somari dall'11 al 19 marzo si svolge una nuova edizione della prima manifestazione nel calendario degli eventi primaverili in Toscana come da tradizione le iniziative sono curate dall'associazione Sagra San Giuseppe con un programma intenso che culminerà nella giornata del 19 marzo la giornata del 19 si apre con il corteo storico il corteo storico messa celebrativa numeri di vari sbandieratori e tamburini e di gruppi fino all'accompagnamento all'orario del pranzo all'orario del pranzo si interrompe un po' tutto per ritrovarci verso le due e mezzo le due e mezzo le comparse si ritrovano nel chiesa dove la mattina abbiamo fatto la celebrazione ecclesiastica e da lì fanno un ultimo pezzettino di corteo questa volta munite di fantino perché da lì in poi si inizierà a correre il palio palio che sostanzialmente è composto da quattro batterie perché a Torita ci sono otto contrade quattro che fanno parte del borgo medievale quattro che sono le dirette esterne in proiezione delle quattro contrade interne al borgo medievale ci sono quattro batterie le quattro vincenti vanno a disputare la finale le quattro perdenti disputano una batteria di recupero dalla quale ne esce una quinta selezionata la quinta selezionata si va ad accompagnare le quattro che hanno già vinto le batterie e correrà la finale questa era la nostra ultima intervista grazie per la cortesia attenzione cronache e commenti torna la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.